Tutti assieme appassionatamente il centrodestra Gera ieri sera si è riunito nei locali dell'hotel Sileno per fare il punto sulle incomprensioni che si sono registrate nel tempo al fine di appienarle e per programmare il futuro. Presenti tra gli altri i vertici locali di Forza Italia, un'altra Gera, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Un incontro è stato ribadito propedeutico per una nuova e definitiva rinascita del centrodestra in città. Il nostro gruppo con Pepe, Ditavi e Russo non ha la presunzione di dire noi siamo il centrodestra, noi siamo un gruppo che vorrebbe aggregare tanta gente e vedere un centrodestra unito. La cosa non è molto semplice perché partiamo da vecchie ruggine che ci sono state nella vecchia campagna elettorale del Consiglio Comunale. Già sera sono stati invitati i consiglieri di Forza Italia però nessuno è venuto, nessuna preclusione per nessuno. Noi vorremmo dialogare con tutti e compreso l'onorevole Federico e tutti quanti sono vicini a lui, a tutto il centrodestra. Noi dobbiamo creare delle idee. Già sera per ora abbiamo gettato le basi e speriamo che i risultati piano piano vengano. Lei parlava di Federico però Federico non era presente questa sera. Sì Federico non è venuto però ci saranno altre occasioni, io mi dovrò incontrare con lui nei prossimi giorni, parleremo un po' a 360 gradi di quali sono le problematiche del centrodestra e della città. Costruire un programma condiviso che deve presentare una vera alternativa al centro-sinistra è competitiva contro i 5 stelle, si tratta dell'obiettivo primario. Noi ci stiamo cercando di organizzare per essere alternativi a questa amministrazione e a tutte le amministrazioni che hanno preceduto questa, cioè i 20 anni di amministrazione di sinistra. Noi abbiamo le personalità, abbiamo le dirigenze, abbiamo le risorse per poter essere uomini di governo, uomini che riusciremo a fare bene per l'amministrazione di questa città e abbiamo la voglia di lasciare consegno positivo ai nostri figli in questa città. Certamente si voterà per le regionali, non è escluso, anzi è molto probabile che si vote pure per le elezioni politiche. Io sono uno di quelli che lavora già da tempo per creare le condizioni, per sfiduciare questo sindaco e questa amministrazione, perché come tutti sappiamo è un sindaco delegittimato, messo fuori dal suo movimento che lo ha eletto, non ha una maggioranza in consiglio comunale, non risponde a nessuno, è scollegato con la politica nazionale e regionale e quindi come la città sta vivendo un momento drammatico, un momento come non mai difficile, credo che responsabilmente tutti abbiamo il dovere di mandare via prima possibile questi signori e ricreare le condizioni di una nuova classe dirigente e una nuova classe politica che potrà pensare al futuro di questa città perché ad oggi non è sicuramente messa bene.